Purtroppo, leggendo i giornali e sentendo la televisione, ho notato che questo rimanere chiuso per settimane, 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 fa saltare molte coppie. Litigano, si tirano i piatti, si scannano e molti anche si separano, ma molti. C'è una percentuale altissima. Allora, devo dire che qui a casa mia nessuno fiata, non c'è nessuno che osa contraddirmi, si fa quello che dico io e si va d'accordo. Non ci vuole niente per andare d'accordo. Si vive, si aspetta e speriamo che arrivi il momento migliore, ma fate come me. Andate tutti d'accordo. È il sistema migliore per arrivare poi al momento in cui potremo uscire e fare quello che vogliamo fare.